Nell'anno della Misericordia, ogni famiglia cristiana possa diventare luogo privilegiato di questo pellegrinaggio, in cui si sperimenta la gioia del perdono. Il perdono è l'essenza dell'amore che sa comprendere lo sbaglio e porvi il remedio. E' all'interno della famiglia che ci si educa al perdono, perché si ha la certezza di essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si possono compiere. Non perdiamo la fiducia nella famiglia. E' bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri, senza nascondere nulla. Dove c'è amore, lì c'è anche comprensione e perdono. Affido a tutti voi, care famiglie, questo pellegrinaggio domestico di tutti i giorni, questa missione così importante di cui il mondo e la Chiesa hanno più che mai bisogno. Così Papa Francesco ha concluso la sua omelia nella Messa per le Famiglie, celebrata nella Basilica Vaticana, nel giorno della festa della Santa Famiglia. La vita della famiglia, ha detto, è un insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi da compiere insieme, come Elcana e Anna con Samuele e Maria e Giuseppe con Gesù. Il primo pellegrinaggio deve essere l'educazione alla preghiera. Benedire i propri figli all'inizio della giornata è la sua conclusione, cioè affidarli al Signore, perché sia Lui la loro protezione e il sostegno nei vari momenti della giornata. E poi ritrovarsi a pregare prima di prendere insieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni. Sono piccoli gesti, ha concluso Papa Francesco, ma esprimono il grande ruolo formativo che la famiglia possiede nel pellegrinaggio di tutti i giorni.